Un saluto a tutti voi e buon inizio di giornata, un saluto dalla redazione, la prima edizione del telegiornale si apre con la sanità e con la mancata nomina del commissario ad acta da parte del Governo nazionale in un settore già allo stremo, reso ancora più precario proprio da questo vuoto. Sentiamo Giovanni Minicozzi. La mancata nomina del nuovo commissario ad acta da parte del Governo nazionale ha determinato una pericolosa situazione di immobilismo nella sanità molisana con conseguente disorganizzazione del servizio. Infatti, la confusione derivante dal piano operativo straordinario imposto con legge a Paolo Frattura dai ministeri competenti si è aggravata per la mancanza di una catena organizzativa certa dopo che lo stesso commissario ad acta, Paolo Frattura, ebbe a dichiarare all'indomane della morte per presunta malasanità del 47enne di Larino, deceduto all'ospedale casa sull'io della sofferenza di San Giovanni Rotondo, che il suo ruolo di commissario era terminato con l'elezione del nuovo presidente della regione. Nel frattempo altri decessi per presunta malasanità si sono verificati, legati soprattutto a patologie tempodipendenti e il caos nei pronto soccorso è frequente. Dunque, la nomina del commissario è urgentissima, ma il governo nazionale cincischia tra Matteo Salvini, favorevole alla designazione del presidente Toma, e i Cinque Stelle contrari. Il braccio di ferro si è spostato anche a Palazzo Daimmo, dove i pentastellati hanno manifestato tutta la loro avversità alla nomina del governatore. Loro chiedono una persona esterna alla politica, di comprovata capacità e di esperienza. Tace invece la Lega molisana affidandosi alla decisione di Matteo Salvini. Il tira e molla dura già da qualche mese, ma di certo i molisani non possono pagare le indecisioni del governo nazionale e soprattutto non possono continuare a rischiare la vita dopo che il precedente governo regionale ha distrutto il lavoro, l'economia e la propria dignità. Ormai la drammatica situazione del Molise rimbalza quotidianamente sugli organi di stampa nazionale e sui report degli istituti di statistica, ma a dire il vero dalla politica regionale ancora non si ricevono segnali incoraggianti per fronteggiare la situazione gravissima di emergenza. Perfino un problema semplice dato per risolto, ovvero il rimborso dei farmaci di fascia C alle persone affette da malattie rare non è stato risolto. Lo ha comunicato il presidente dell'Associazione Italiana Narcolettici, Icilio Ceretelli. Nulla si è sbloccato, anzi la situazione è tragica, ha scritto il presidente. Abbiamo soci tuttora senza farmaci, ha concluso, e i nostri appelli ai responsabili della regione sono stati inascoltati. Che dire di più? Il Molise si colloca di diritto nel terzo mondo per responsabilità oggettive di chi ha governato la regione e non certo per responsabilità dei molisani. La strage dei migranti nell'incidente stradale tra Apricena e Lesina ha creato disagi anche alla circolazione in Molise. Il traffico è stato deviato a Termoli, al bivio di Campomarino. Le macchine dirette in Puglia sono state dirottate verso l'autostrada 14. La tragedia è arrivata a solo due giorni dall'incidente simile avvenuto in Puglia nel quale avevano perso la vita proprio altri quattro migranti nello stesso modo. Parliamo di scuole sicure perché ci sono buone notizie per gli abitanti di Contrada Mascione a Campobasso. Entro l'anno partiranno le opere per realizzare il nuovo edificio scolastico dopo l'affidamento dei lavori ad un'impresa di Roma. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Un anno fa la clamorosa protesta dei residenti che riconsegnarono le tessere elettorali alla Prefettura. A distanza di circa 12 mesi da quell'iniziativa arriva la buona notizia. tanto attesa dagli abitanti di Mascione, una popolosa Contrada di Campobasso. Il sindaco Antonio Battista ha infatti annunciato che entro l'anno partiranno i lavori per la costruzione della nuova scuola. Un annuncio che è arrivato dopo l'affidamento in via definitiva dei lavori ad un'impresa di Roma, il Consorzio Stabile Alveare Network, che ha presentato un'offerta di 750 mila euro rispetto alla somma a base d'asta di 965 mila euro con un ribasso del 30,7%. In autunno dunque dovrebbero partire i lavori in Contrada Casale per la realizzazione di una struttura leggera in grado di ospitare gli alunni che dallo scorso anno scolastico sono invece ospitati nell'edificio di via Gramsci. Era stato il sindaco Battista a decidere per la chiusura dell'edificio dopo aver preso visione della relazione estilata dai tecnici dell'Unimol sulla vulnerabilità sismica della vecchia scuola. A differenza di altri istituti scolastici finiti sotto la lente degli esperti dell'università, per la struttura di Mascione il risponso è stato lapidario. Quella scuola va abbattuta. Le criticità sono tali da sconsigliare l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico che a quanto pare non avrebbero garantito la sicurezza strutturale dell'edificio. L'amministrazione comunale ha così avviato le procedure per la ricostruzione del nuovo stabile venendo così incontro alla richiesta dei residenti di avere di nuovo la loro scuola nel loro quartiere. E ha riaperto al traffico il tratto della provinciale 78 che collega Acquaviva con le croci a Monte Falcone. Era stato chiuso per un ponte pericolante. La circolazione sarà possibile grazie alla breatella che è stata realizzata in due mesi con un finanziamento regionale di 270 mila euro. L'opera, ha spiegato il presidente della provincia Battista, fa parte di un pacchetto di eventi che saranno messi in campo per agevolare la viabilità dell'intera zona. E ora passiamo alla rassegna dei giornali online di quelli che troveremo oggi in edicola. Il giornale del Molise apre con la strage in Puglia sulla statale adriatica. Morti 12 braccianti, lunghe code a sud di Termoli e poi a Campobasso la scuola nuova per Mascione, assegnati lavori a un'impresa di Roma. Aziende molisane in crisi, TR gamme e zuccherificio sotto la lente del TG2, sempre a Termoli, poi più sicurezza in strada con autovelox e street control. A Isernia sorpresi a spendere soldi falsi, padre e figlio arrestati dalla squadra mobile. Successo per la pezzata a Capracotta, come sempre migliaia di persone sul pianoro di Prato Gentile. Siamo ai giornali locali, cominciamo da primo piano che apre con la cronaca, strage sulla statale, muoiono 12 braccianti, viaggiavano su un furgone che si è scontrato frontalmente con un tir all'altezza del Bivio per ripalta, a pochi chilometri dal confine Colmolise, sul posto anche il procuratore Vaccaro e poi sempre la cronaca, l'auto si ribalta a Rotello, un diciottenne resta incastrato tra le lamiere e notte di follia a Riccia. Tentato omicidio migliorano le condizioni del trentasettenne ferito. Sempre per la cronaca, lite in famiglia a Campobasso, marito violento in manette. Nel taglio centrale sulla non autosufficienza la regione eroga 2 milioni e mezzo, Tom ha deciso cambio di passo rispetto al passato e il richiamo sullo sport. Lupi, primo giorno di lavoro con una rosa da completare, nello staff anche Minadeo e poi in arrivo Diop e la seconda punta Morra. classe 98. Vediamo la prima pagina del quotidiano, finisce nel sangue la lite arrestato un pregiudicato, la quiete di una palestina di Campobasso interrotta dalle urla dei bambini in via 24 maggio, casa distrutta, aggrediti anche i poliziotti, tentato omicidio. Uno degli arrestati respinge le accuse, ha raccontato la propria persone, uno dei due giovani arrestati l'altra sera a Riccia. Le notizie del cassettone fondono una autosufficienza oltre 2 milioni di euro dagli ambiti territoriali. Sanità lettera all'ordine dei Medioci, deroga al Balduzzi per un polo ospedaliero unico. La strage dei migranti in centropagina, muoiono in 12 la testimonianza di un molisano e le code a Termoli. fuori strada il 18enne a Rotello e anche qui per i richiami di sport. Stoccata di Landolfi al vecchio club, Minadeo nello staff tecnico juniores, confermato Piccirilli. La futuro Molise Campobasso lite in famiglia, rischia di finire in tragedia, provvidenziale intervento della polizia che arresta un pregiudicato. E poi fondo per la non autosufficienza 2017, oltre 2 milioni e mezzo di euro liquidati agli ambiti territoriali sociali. Rischio sanitario e sicurezza del paziente è stato costituito il comitato regionale dall'azienda sanitaria e a Isernia tentano di spacciare banconote false arrestate due persone, sono padre e figlio, come abbiamo visto poco fa. Due gravissime notizie di cronaca occupano le prime pagine di tutte le testate, con l'onda di fuoco crolla l'autostrada, il Corriere della Sera e la immagine terribile di questa esplosione avvenuta all'altezza di Borgo Panigale, sull'autostrada del Sole, sulla A1, Bologna tamponamento sulla A14 e provoca un rogo, nube nera sulla città, si apre una voragine sul raccordo con la A1, esplode un camion con il GPL, una vittima, decine di feriti, come un attentato boati e panico. È successo che un'autocisterna carica di GPL ha centrato in pieno un tir in coda sulla A14 a Borgo Panigale, un'onda di fuoco ha invaso l'autostrada che corre vicinissima alla città, una voragine si è aperta su un ponte dell'autostrada parzialmente crollato, il bilancio parla di un molto e almeno 68 feriti, il bilancio naturalmente rispetto al quotidiano si è aggravato, sono due morti e un'ottantina i feriti accertati finora. E poi la strage dei braccianti, 16 morti in due giorni, è un titolo riepilogo con i quattro morti deceduti appena due giorni fa, invece il terribile incidente di ieri ad Apricena. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera che praticamente è speculare come vi dicevo a tante altre che troveremo in rassegna. La Repubblica fuoco e terrore sulla via Emilia, ogni giorno 10.000 tir a rischio, Bologna autocisterna tampona un camion nell'esplosione, una vittima e 70 feriti, crolla ponte sulla A14 e qui vedete la foto al momento, scattata al momento dagli automobilisti stessi, al momento dell'esplosione, prima si era levata una nube nera, poi il camion è esploso e la strage dei braccianti stranieri, un altro incidente, 12 morti troppo tardi per ridare loro una dignità, il commento di Giancarlo De Cataldo, i 16 esseri umani che hanno perso la vita in questi giorni sulle assolate rotte della via del Pomodoro, sono caduti in una terra dove l'intolleranza verso lo straniero è minima, effetto per alcuni nel senso di accoglienza delle genti di Puglia, ma per altri c'entra anche la convenienza, chiamiamola caporalato e non convenienza, chiamiamola con il suo nome, questi erano schiavi a un euro a quintale, tanto vengono pagati gli stranieri dai proprietari terrieri per raccogliere i pomodori. Il fatto quotidiano non salta a piepari la cronaca, per parlare di Berlusconi che paralizza la RAI per salvare un miliardo di spot su Mediaset, il ricatto, il Caimano vuole tenersi il 60% di pubblicità con appena il 35% di share e 2018 la corruzione raddoppia, 40 milioni di mazzette in 5 mesi, queste le notizie del quotidiano, mentre parla di apocalisse con questo quadratino in autostrada esplode a 14, un morto, 68 feriti, la prima pagina del quotidiano. Avvenire mette invece in correlazione quasi i due incidenti, l'inferno a Bologna brucia vite e strade, la strage di sfruttati, 12 vittime nei campi, la prima pagina di avvenire e poi il consueto occhio sui migranti. Motovedette, sì, senza garanzie è quello che è accaduto ieri alla Camera, tensione tra i profughi nel campo Acnur in Libia, approvato in Parlamento la cessione alla Guardia Costiera di Tripoli dove continuano sparizioni e violenze. Vediamo la prima pagina invece di Libero, anche qui la cronaca è sparita, ma vaccinatevi il cervello, curate chi non vuole immunizzare i figli, il Senato vola lo slittamento dell'obbligo di profilassi per frequentare nidi e asili, l'anno scolastico partirà nel caos con i bambini a rischio contagio, ultima follia, minacce di morte al virologo Burioni e poi l'espresso indica le signore che non meritano rispetto, se la donna è di destra bastonala, sessisti con le femmine altrui, sottomessi con le loro, gli intellettuali di sinistra sono così secondo Giovanni Sallusti e si parla di Daniela Sant'Anche, del Marile Pen, della ministra Giulia Bongiorno, del sindaco di Torino, Chiara Appendino. Vediamo invece due quotidiani ormai considerati locali, il Tempo, anche il quotidiano di Roma parla dei vaccini, ma poi nel taglio centrale, Autostrada per l'Inferno, titola il quotidiano di Piazza Colonna, mentre il mattino di Napoli, sempre con la stessa fotografia davvero da attentato e non da incidente stradale, Inferno sull'Esodo, l'autocisterna che si schianta e provoca esplosioni a catena. Perfino il sole 24 ore che di solito non dedica mai spazio alle notizie di cronaca, riporta la foto della nube di fuoco in autostrada e di un morto, poi l'apertura sulla flat tax taglia 1,7 miliardi di tasse alle mini imprese. Il manifesto invece parla di Camposanto, con il chiaro riferimento all'incidente che è costato la vita a 12 braccianti, morti e diversi feriti, il tragico bilancio dello scontro tra un tir e un furgone pieno di migranti a Foggia e la seconda strage in 48 ore del dopolavoro nei campi di Pomodoro. Sabato erano morti in quattro, domani sciopero generale contro il caporalato, è il titolo del quotidiano comunista. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo alle notizie sportive, è sempre il mercato in primo piano. Inter, che colpo che ità? Una freccia per Spalletti, accordo vicino con il Monaco, prestito con diritto di riscatto, 30 milioni la valutazione totale. L'obiettivo è un superattacco per Modric, invece si decide domani. Ma nel cassettone c'è comunque una storia, un pezzo di storia milanese sulla sponda rossonera, ma anche della nazionale. Milan che storia, Maldini credo nel progetto, Leonardo chiama anche Kakà, Chilinic si blocca, va all'Atletico, una leggenda tira l'altra. Nel giorno di Paolo spunta anche Ricchi ed è Riccardo Kakà. Nella società rossonera è qui un momento di gloria del Milan con Maldini che alza la Coppa Europa della Champions League, la Coppa con le orecchie. Ancora il mercato nella Juve sarà rinnovo, più ritocco Pjanic e Juve avanti tutta, previsto un aumento da 4 milioni e mezzo a 6 milioni, si allontana la cessione. E infine le notizie dagli europei. Vai Tortu, io al 100%, stasera sprinta per il podio, può scapparci la sorpresa. Negli europei, Atletica Berlino, il Brian Solo tenta un'altra impresa dopo aver tolto a Mennea il record italiano sui 100, è uno dei pochi uomini al mondo ad essere sceso su quei tempi. Poi stasera chiaramente gli occhi sono puntati tutti su di lui. E con questa notizia ci fermiamo e chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Ringraziamo Daniele Ricciuto che è stato con noi in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Da casa l'appuntamento con la nostra informazione per le 14. Per ora è tutto, buona giornata.